Lo sportello del cittadino si sta occupando del reato dello stalking. Affrontiamo la delicata tematica da un punto di vista sociale e proprio giuridico con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto. E allora, avvocato Lupo, le caratteristiche dello stalking? Bene, dal punto di vista dell'autore dobbiamo dire che parliamo di atti persecutori. E atti persecutori che possono avvenire in tante forme. Pensiamo a chi ti invia una serie di messaggi. Noi parliamo di centinaia di messaggi, parliamo anche di un arco temporale molto breve. Normalmente la giurisprudenza parla di quattro settimane, quindi non devono essere dei messaggi, degli atti persecutori prolungati nel tempo, ma molto intensi in un breve periodo. Quindi immaginiamo... Concentrati. Concentrati, si parla come statistica di almeno quattro settimane. Quindi sono episodi molto concentrati, molto ravvicinati. Pensiamo ad un individuo che invia 50, 100, 200 messaggi, MMS, SMS alla sua vittima. Pensiamo anche a degli appostamenti. Arrivi sotto casa e trovi questa persona. Vai a fare la spesa e ti trovi questa persona. Poi daremo anche i consigli. C'è una serie di atti persecutori, di presenza costante, di vicinanza, nei confronti della vittima, che fanno sì di poter pensare che siano atti persecutori. Ovviamente poi internet ha facilitato e facilita anche questi atti. Pensa a chi ti manda messaggi, magari usa anche dei nickname, usa degli avatar, che ti spia. Poi noi siamo anche soliti in dire dove siamo. E quindi magari lo stalker te lo trovi dovunque vai. Questo da un punto di vista dell'autore. L'invio di fiori. Io ricordo una cliente che riceveva continuamente mazzi di fiori. All'inizio lo ha sottovalutato. Potrebbe essere anche piacevole pensare di ricevere dei mazzi di fiori, ma quando poi i mazzi di fiori diventano continui, ossessivi, sul posto di lavoro, dove tu abiti, presso i tuoi familiari, e poi magari si trasformano anche in corone mortuari. E beh, non è sempre tanto piacevole. Pensiamo a bigliettini, pensiamo a messaggi, pensiamo ad SMS, pensiamo ad una serie di telefonate, magari anche notturne mute. Rompono la tranquillità. Questo dal punto di vista dell'autore.